Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento in diretta come sempre con l'informazione del Buongiorno Weekend e partiamo dalle notizie della nostra piattaforma multimediale, il sito internet di atvmarche.it per vedere insieme l'apertura, ci parla di legalità, lezione con il capitano ultimo, la legalità parte dall'addonarsi agli altri parla di amore e di amicizia ma visto l'inferno fu lui a mettere le manette il 15 gennaio 1993 a Totorina lo ricorderete il famoso capitano ultimo Sergio De Caprio appunto all'anagrafe e poi ancora vendevano sneakers online ma era una truffa, i carabinieri di Ancona scoprono un giro da oltre 4 milioni di euro intanto c'è un allarme quello della polizia postale di Ancona sulla pedofilia, reati purtroppo in aumento minaccia costante all'integrità di bambini e di ragazzi soprattutto attraverso il web e ancora dal nostro sito internet la situazione covid continua la discesa dei casi ma resta l'obbligo di mascherine per i lavoratori del privato e poi chiaramente trovate anche altre notizie il post sisma 2016 la nuova ordinanza di Legnini la voglia di musei nelle marche torna boom di presenze alla galleria nazionale di Urbino tra i musei più visitati delle marche nello sport lega pro passa l'olbia l'ancona matelica dice addio ai playoff queste le notizie della nostra piattaforma vediamo anche intanto per quello che riguarda la giornata di oggi sabato 7 maggio le previsioni meteo vediamo che cosa dobbiamo aspettarci ci saranno dei miglioramenti rispetto alla giornata di oggi visto che ieri è tornato il freddo e ce ne siamo accorti qualcuno addirittura sosteneva di tornare in qualche modo alle gomme invernali per l'auto per la giornata di oggi resta la situazione di sostanziale instabilità secondo quanto ci dice il meteo.it segnalate piogge temporali nelle marche temperature comprese tra 13 e 14 per le minime tra 16 e 17 per le temperature massime cielo coperto pioggia temporale insomma diciamo cielo coperto con graduale miglioramento nel nord della regione soprattutto nel pesarese pioggia più debole nell'anconetano nel centro sud invece delle marche maceratese fermano e ascolano sarà segnato da temporali per la giornata di domani domenica 8 maggio andiamo a vedere che cosa dobbiamo aspettarci un miglioramento un ubi sparse cielo poco nuvoloso le temperature sono un pochino più basse le minime tra 12 e 13 le massime in aumento tra 19 e 20 quindi domani domenica 8 maggio una situazione di miglioramento la stabilità della situazione meteo qualcuno direbbe e ti pareva invece verrà da lunedì come ogni lunedì che abbiamo visto negli ultimi tempi segnato da bel tempo anche in questo caso secondo quanto ci dice il meteo ci sarà un miglioramento decisivo per lunedì possiamo consolarci dicendo che già da domenica appunto ci sarà un graduale miglioramento della condizione meteo per la prossima settimana abbiamo detto di lunedì chiudiamo con martedì sarà una situazione stabile con cielo sereno temperature le massime in aumento quindi diciamo da lunedì avremo un vero e proprio assaggio di piena primavera siamo a maggio abbiamo bisogno anche di temperature diciamo all'altezza per quello che riguarda le prime pagine partiamo dal Corriere Adriatico di Ancona questa è l'apertura a case all'ex centrale del latte vetri rotti a mianto nel vecchio stabilimento sediari lo cediamo all'Erap previsti anche i negozi c'è un tesoretto per l'edificio che ospita la scuola ben in casa 10 milioni per demolirlo e ricostruirlo e poi alle spiagge in attesa dei lavori passetto e porto nuovo le spiagge Anconetane un disastro scrive il Corriere che fa il punto lo trovate a pagina 8 e 9 la firma di Teodora Stefanelli aspettando l'estate chiaramente aspettando i lavori la sanità da Fabriano ad Ascoli il restyling degli ospedali a che punto siamo non solo nuovi ospedali nel masterplan approntato dalla regione ha inserito il risanamento dell'edilizia sanitaria esistente con interventi di efficientamento energetico il punto di Martina Marinangeli appunto sul Corriere Adriatico nella cronaca patacche per posta sgominata la gang delle truffe online ad Ancona preso con la cocaina era per lo sballo di fine ramadanna avrebbe detto agli inquirenti Falconara lita shock e pestaggio lo che ha il rischio il questore lo chiude e poi l'untore dell'HIV Pinti sapeva di infettare condanna definitiva a 16 anni inflitta in Cassazione c'è un annesso di causalità con la morte dell'ex compagna fu Pinti a trasmettere alla Gorini l'HIV nel 2009 era consapevole di essere siero positivo in grado di trasmettere virus sono le motivazioni con cui la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 16 anni e 8 mesi di reclusione ai danni di Claudio Pinti accusato di aver infettato le sue ex compagne nella cronaca colpo al bar ladri in fuga con soldi e sigarette queste le principali notizie per Ancona andiamo a vedere Ascoli l'apertura ci parla di permessi rosa per la sosta la rengo individua 10 zone della città dove si potrà parcheggiare per un'ora senza pagare agevolazione riservata alle donne incinte ai genitori con figli che hanno meno di due anni e poi nello sport è venerdì in casa c'è il Benevento battuta 4 a 1 la Ternana l'Ascoli ha il playoff da sesta appunto è venerdì in casa ci sarà il Benevento rifiuti di Relluce Fermo Ancona non li prendono chiaramente la butade diciamo la discussione rispetto all'impianto e quindi ai rifiuti sempre ad Ascoli il farmacista arrestato quali certificati falsi i tamponi io li ho fatti Montalto cantieri sulla 14 i disagi si spostano sulla costa Picena intanto la riviera sarà esclusa dall'autorità portuale San Benedetto non avrà un rappresentante urbinati rischiamo di perdere tanti soldi giochi sembrerebbero essere fatti la riviera delle palme a un momento sarebbe tagliata fuori dal comitato di gestione dall'autorità portuale di sistema che regolamenta i porti di Marche e Abruzzo che è chiamato a prendere le decisioni e stabilire stanziamenti per il porto intanto incarichi dirigenziali rotazione in comune il punto rispetto a quanto succede a San Benedetto del Tronto da Ascoli andiamo alla pagina fermana Murri road map per i reparti ovvero qual è in qualche modo la strada tracciata rispetto al nuovo Murri la pace guida cardiologia stilata la lista delle emergenze ma ora niente campanelismi su emodinamica luni contagiati dopo la gita intanto prof e genitori d'accordo no alle recriminazioni è stata una scelta giusta scuole da rifare nel fermano andiamo chiaramente a zoomare ecco 33 milioni un finanziamento record per il territorio del fermano intanto via al centro per l'impiego più dignità al lavoro taglio del nastro per il centro per l'impiego che riapre dopo giorni per il terremoto del 2016 tra i presenti il parlamentare Mauro Lucentini l'assessore regionale Stefano Aguzzi per quello che riguarda il fermano e quindi gli obiettivi chiaramente ridare dignità al lavoro sempre dal fermano regolamento di conti ride all'ospedale sgominata la banda Porto San Giorgio un tragico epilogo ritrovato senza vita il 56enne scomparso Porto San Tepidio controlli nei cantieri denunce molte per gli imprenditori intanto ciclabile quanti dubbi disagi per gli chalet ancora nel mirino al cantiere sul lungomare il comune varrà il piano per nuovi posti auto nello sport con la Viterbese la fermano a primo round per la salvezza e poi Macerata aperitivi stretta sui controlli in campo più agenti steward pronto il maxipiano per la sicurezza durante la festa dell'Europa appunto che torna a Macerata auto a Flemitz in centro storico nuove aree per la sosta Caldarelli via rilancio siamo pronti intanto Unimc l'università di Macerata si vota il 29 giugno decisa la data è un testa a testa tra Spigarelli e McCourt partita la sfida ne scrive Luca Patrassi sul Corriere Adriatico e poi della sanità abbiamo detto intanto sempre da Macerata lirica già venduti 6.000 biglietti Tosca è la preferita un grande classico Macerata quartiere vergine arrivano 2.6 milioni per la nuova scuola recanata invece a progetto per aprire le antiche case rurali del colle dell'infinito una valorizzazione piena rispetto ovviamente in questo caso appunto all'eredità leopardiana la tragedia di Canullo invece qui parliamo di Cronaca non so se ricordate di quella famiglia morti in casa trovati dopo mesi lui morì per malore moglie e figlio di Inedia una vicenda davvero incredibile l'uomo che accudiva la moglie e il figlio morì per un malore e morirono distenti perché lasciati soli l'esito dell'autopsia scuote di nuovo Macerata ci parla di solitudine e ci parla anche ovviamente saranno le indagini a dirlo se ognuno ha fatto il proprio mestiere la tragedia di Canullo scuote ancora Macerata dopo l'esito shock dell'autopsia un altro dolore atroce hanno commentato ieri alcuni esponenti dell'opposizione l'autopsia ha accertato che Eros Canullo è stato ucciso da un malore moglie e figlio sono morti di inedia lasciati da soli morti di fame qualcuno ha scritto anche sui nazionali sempre per la cronaca in stupestrada con la carrozzina portato all'uscita dalla polizia questo per quello che riguarda Macerata andiamo a Pesaro ex tribunale si riparte da zero il cantiere fermo da tre anni il comune cercherà progettisti poi dovrà indire una nuova gara fissata intanto la destinazione a polo museale per le moto sono stati anche assicurati i finanziamenti San Decenzi arriva il parking iniziano i lavori e scattano i divieti fino ad agosto Pesaro Scuola Frank fondi per 3 milioni e mezzo grazie al bando PNRR sempre da Pesaro la guardia medica senza più dottori caso in Parlamento a Fano Marina dei Cesari l'amministrazione farà da garante intanto anziani sorprendono donne a rubare in casa le tre sconosciute erano entrate con una scusa marito e moglie reagiscono in fuga a mani vuote successo a Pesaro in via Tombesi tre donne sono state viste girare nel quartiere per chiudere per la Colle Marathon oltre mille partecipanti lo sport e la voglia di socialità così per il Corriere Adriatico andiamo sul resto del cardino e vediamo la prima pagina di Ancona intanto ci parla in questo caso di frase sessista assessore nel mirino l'assessore è Filippo Saltamartini assessore alla sanità abbina cranio e organi genitali femminili poi si difende parole estrapolate da un contesto intanto a proposito di Saltamartini qui per parlare di altro di qualcosa diciamo di molto più serio il sacrificio di Lollo non è stato inutile Lollo in questo caso è Lorenzo Farinelli giovane medico onconetano morto nella 2019 a 34 anni per un infoma nono ieri è stata una giornata molto importante oggi ne parleremo anche nei nostri notiziari con un contributo video perché è stata attivata una borsa di ricerca o meglio un assegno di ricerca come viene chiamato con una giovane ricercatrice che trovate appunto in questo caso nella foto Giuseppina Urbano che porterà avanti questa terapia molto promettente che è quella delle carti una terapia cellulare in qualche modo che riprogramma appunto alcune alcune cellule diciamo diciamo così che potrà essere sperimentata anche gli ospedali riuniti di Ancona grazie a questo finanziamento della fondazione Farinelli che è frutto anche di questo appello che lanciò Lorenzo e oggi vede in qualche modo il traguardo da qui appunto il titolo del resto del Carlino tra le altre notizie Castelfidardo lancia la droga dall'auto in corsa volevo far festa dopo il Ramadan è stato arrestato un tunisino Falconara Ubriachi e Risse il bar Corallo chiude 20 giorni a Chiaravalle il sindaco non si dimette mozione di sfiducia dopo il caso di Stolking intanto a Duca la sede di ormeggiatori e piloti del porto lettera dell'assessore Simonella a Garofalo grande impegno merita un riconoscimento alla memoria appunto di Duca appello della famiglia il comune si mobilita partiamo dalla conquista dell'Everest d'Alaska la storia trovate in questo caso anche sul resto del Carlino questo per quello che riguarda la pagina di Ancona andiamo a vedere Ascoli che cosa troviamo come notizie ecco perché apriamo in centro i negozianti sfidano pandemia e crisi economica e ripartono dalle 100 torri bisogna crederci dicono e per fortuna insomma è un segno di vitalità siamo appunto nell'Ascolano sempre nell'Ascolano tamponi falsi la difesa i video dei carabinieri non sono chiari farmacista arrestato dal giudice c'è la difesa appunto dei legali che dicono c'è poca chiarezza peste suina la col diretti parla di allarme rosso e poi Ascoli ora il benevento abbiamo detto venerdì prossimo poker alla ternana venerdì playoff con gara secca del duca possono sognare in questo caso i bianconeri poi c'è un intervento bloccare i cantieri a 14 durante l'estate di Barbara Pietrolungo rispetto chiaramente a tutta la discussione sulle code nella zona sud della nostra regione tra le altre notizie San Benedetto trasloco forzato per la vice arena decisione assurda tanta amarezza sanità il PD la regione vuole lasciarci solo ospedali a metà intanto Ripatranzone festa per il decennale del 43esimo parallelo appunto che passa per Ripatranzone e ancora si allungano i tempi per i lavori alla piscina in questo caso siamo a San Benedetto fermo che cosa ci dice in questo caso ci parla di scuole pioggia di milioni per i lavori abbiamo detto finanziamento record lo leggevamo anche prima sul Corriere da Porto Sant'Elpidio Sant'Elpidio a mare pronto un tesoretto per ricostruire la Bacci e il polo urbano intanto Pacci nuovo primario di cardiologia lo trovate nella parte alta ecco cosa serve al reparto parliamo del Murri l'ospedale Fermano e intanto cantiere fuori legge denunciati 4 imprenditori 34.000 euro di multe un'indagine in questo caso tra le altre notizie a proposito di scuole salvate le prime classi in 5 piccoli comuni l'incontro con Filisetti che è direttore dell'USR cioè l'ufficio scolastico regionale Falerone Caro Energia il sindaco taglia la stagione estiva al teatro romano purtroppo i primi provvedimenti rispetto alla Caro Energia il centro per l'impiego da Monte Giorgio riapre dopo il sisma Fermo dopo il 2016 di Sesto Idrogeologico Porto San Giorgio il comune cerca fondi così per Fermo Macerata rettore sfida Spigarelli McCourt il 29 giugno il voto per il dopo adornato appunto che chiude in questi mesi la propria esperienza alla guida dell'Università di Macerata in campo la direttrice del China Center Francesca Spigarelli appunto il famoso studioso di James Joyce McCourt sarà certamente una sfida molto sostenuta per quello che riguarda l'Ateneo maceratese poi carrozzina in superstrada Civitanova disabile scortato dalla polizia fino all'uscita che cosa in qualche modo non è saltato fuori nella giornata di ieri scivolone di Saltamartini abbiamo detto ma il sessismo non c'entra la teoria sull'intelligenza si parlò chiaramente anche diciamo dell'organo sessuale femminile scuola delle vergini finalmente arrivano i fondi ancora Porto Recanati incendia un'auto nella notte donna ripresa dalle telecamere incursione sventata la degli intercettati della polizia in seguimento lungo via pace siamo a Macerata per chiudere Festival del Libro una maratona per il gran finale il festival è quello di Macerata racconta Dandini e Bignardi tra gli ospiti di oggi domani Castaldo e finalisti dello strega aperitivi europei dopo due anni di nuovo festa il comune torniamo alla normalità decisa una stretta sui controlli aderiscono oltre 60 locali per chiudere con il Carlino andiamo a Pesero Movida al Mare Rebus delle Regole locali e bagni slanciati per inizio stagione il comune però deve mettere i paletti sugli orari della notte intanto l'assalto dei mille per la Colle Marathon domani si corre dopo tre anni di stop per Covid è un bel tornale è un bel correre per la Colle Marathon tra le altre notizie dal pesarese 3 milioni dal PNRR per l'Anna Frank sarà demolita e ricostruita la scuola di Santa Maria a Pesero affanno nuovi campi le scuole calcio battono cassa con il comune intanto le ristrutturazioni super bonus i palazzi in fila per i lavori costruttori in ansia la normativa sta cambiando c'è preoccupazione c'è stato un aumento delle materie prime insomma tutto quello che tanti conoscono molto bene rispetto alla difficoltà del 110% o super bonus il concorso del Carlino cittadino dell'anno la premiazione in prefettura per chiudere sempre dal pesarese VL Palace occupato se raggiunge i playoff l'arena non disponibile per la prima in casa sarebbe occupato Pesero Pola in tempesta Pola in Croazia Scafo rompe l'albero meteo avverso sulla rotta dei trabacoli questo per quello che riguarda il resto del Carlino e le notizie di stampo locale andiamo a vedere sul Corriere della Sera che cosa troviamo in questo caso come notizie l'apertura ci parla di nuovi aiuti militari per 150 milioni di dollari Mosca la Polonia possibile fonte di minacce Zelensky apre ai colloqui di pace andiamo a vedere insieme brevemente l'aggiornamento rispetto alla situazione della guerra partendo dalle ultime notizie l'ONU chiede di sbloccare il porto di Odessa per l'export del grano sappiamo tutti quanto sta impattando in qualche modo sulle materie prime a livello mondiale quindi c'è una richiesta molto chiara di poter in qualche modo rimettere nel circuito alimentare allevamenti e alimentazione più in genere chiaramente le materie prime a partire dal grano e c'è in questo caso una richiesta che arriva dall'ONU appunto sbloccare il porto di Odessa tra quelli strategici per l'export del grano il pentagono e quindi gli americani forniamo a Kiev informazioni legittime legali e limitate rispetto al fatto che in qualche modo teleguidassero gli attacchi da parte dell'esercito ucraino Trump Biden dice le parole sbagliate nel momento sbagliato torna a parlare l'ex presidente americano Donald Trump durante un comizio in Pennsylvania ha attaccato il presidente statunitense attuale Joe Biden sull'Ucraina sostenendo che sta dicendo esattamente la cosa sbagliata nel momento sbagliato il tycoon ha poi ricordato che il presidente russo Vladimir Putin ha visto le difficoltà di Biden nel ritirarsi dall'Afghanistan ha pensato che fosse un buon momento per attaccare la leadership americana come è ripetuto anche in Pennsylvania come una settimana fa in Nebraska Putin non avrebbe mai invaso l'Ucraina questo è quanto sostiene ovviamente Trump è difficile avere una controprova visto come sono andate poi le cose visto che Trump non è stato riconfermato presidente degli Stati Uniti intanto il nuovo pacchetto di aiuti militari statunitensi vale 150 milioni di dollari e ancora tra le notizie l'oligarcha Abramovich vende il Chelsea sia Todd Burley il Chelsea prestigioso club inglese della Premier League potrebbe avere a brevissimo un nuovo proprietario un consorzio guidato da Todd Burley con proprietario degli LA Dodgers sostenuto da Clear Lake Capital ha firmato un contratto per acquisizione appunto dal Chelsea dall'oligarcha russo Roman Abramovich che rientra tra coloro che sono sanzionati dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti oltre che dal Regno Unito dopo l'invasione dell'Ucraina Kiev respinti otto attacchi russi nel Donbass ci si concentra nell'est Zelensky canali diplomatici per salvare i soldati assediati nell'acciaieria questo per quello che riguarda le notizie della guerra andiamo a vedere sempre dal Corriere della Sera altre notizie dopo la Mosqua in questo caso l'ammiraglia affondata colpita la fregata Makarov Kiev un missile poi il rogo i russi negano un nuovo attacco in questo caso nel Mar Nero dopo appunto l'ammiraglia la flotta diciamo storica dei russi tocca la fregata Makarov i russi negano che un missile abbia appunto comportato un rogo a bordo della fregata immagini satellitare mostrano un'esplosione a largo di Odessa il Cremlino nega dopo l'affondamento del Mosqua si tratta della migliore delle tre grandi navi da combattimento rimaste ai russi uno dei gioielli della Marina dello Zara è già iniziata la controoffensiva degli ucraini il punto militare sul Corriere della Sera prima dobbiamo accumulare armi intanto Sherazade il mega yacht di Putin sapete si trova in Italia a Marina di Carrara bloccato dall'Italia il governo ha firmato il decreto di congelamento il mega yacht di Putin è tra virgolette perché secondo il team investigativo del dissidente russo Alexei Navalny il proprietario vero sarebbe il presidente russo su questo diciamo non ci sono né ci possono essere ovviamente conferme ma ci sono diciamo indizi la cosa è stata anche rilanciata dal New York Times il panfilo è riconducibile all'oligarca appunto Edward Kudianatov ex presidente di Rosneft il colosso petrolifero e proprietario di Villa Alta Chiara sempre tra le notizie sopravvissuti di Mariupol la nostra vita nei tunnel dell'Azovstal Lukashenko presidente bielorusso amico di Putin alla guerra dice si sta trascinando troppo lo stop a Conte Draghi in aula al ritorno dagli Stati Uniti incontrerà Biden si parlerà di cambiamenti climatici chiaramente di Ucraina le lodi a Di Maio atlantista intanto Massimo Ranieri cade dal palco durante lo show a Napoli trauma lombo dorsale alla spalla destra infortunio per il cantante 71enne soccorso a Cardarelli paura nella sala piena per lo spettacolo sogno e sondesto appunto lo spettacolo di Ranieri poi l'inciampo e la caduta nello sport Inter rimonta contro l'Empoli e prima aspettando il Milan Barella leader Lautaro spietato Lecce Cremonese e Namonza ai playoff bonus da 200 euro a luglio in busta paga come richiederlo a chi spetta quando arriva lo trovate sul Corriere della Sera Salvini no a chi ha il reddito di cittadinanza presunti maltrattamenti a scuola assolta l'insegnante palermitana accusumano fu sospesa nel 2014 non ci fu la verità arriva appunto otto anni dopo alcun maltrattamento nei confronti degli alunni della sua classe intanto P38 la gang 5 indagati in Reggio Emilia per la band che elogia le Brigate Rosse profugo Ucraina di 16 anni in coma da febbraio inizia a reggere gli stimoli anche ascoltando i Maneskin c'è anche questo potere della musica il dottor Maurizio Beatrici ho voluto far ascoltare il suo gruppo preferito è andata bene sudorazione e battito sono aumentati un buon segno in qualche modo di risposta e poi 6.000 euro per tre mesi giorno libero il posto del titolare del minimarket che non trovava personale prima di chiudere chiaramente ricordiamo per quello che riguarda la parte della diretta che siamo appunto in diretta per quello che riguarda la nostra pagina facebook di etvmarche ci dobbiamo in questo caso fermare ovviamente la rassegna stampa prosegue e vi do appuntamento anche le altre programmazioni di etvmarche